buonasera benvenuti al maracanà siamo qui al trofeo jack precisamente la jack cap vinta a tavolino per l'assenza dei ragazzi del bayern monaco febricitante i due capitani guarente claudio e guarente raffaele al gran completo la roma invece la roma vince a tavolino perché non c'è costituità di fare il ritorno con la notizia già giorgio lisio che era in ritardo già sa tutto la presa molto bene a differenza di qualcuno invece che voleva giocare ci diceva una vicenda come diceva la seconda volta che capita durante questa stagione purtroppo hanno paura io non voglio vedere questo certo su 83 partite due volte voi siamo una squadra difficile da battere ognuno siamo qui oltre a festeggiare infatti arriva anche la dottor il passaggio del turno vincente polverizzata però dei feo per farsi per trovare forse delle poche presenze un applauso alla torta oltre a questo dobbiamo siamo qui oltre a questo siamo per celebrare un nuovo acquisto il primo acquisto lo vediamo il posto si sapeva metà del trofeo jack si sapeva già la terza quarta giornata questa è la sua casacca numero numero ma io voglio dire solo brevemente che sono tornato a casa insomma dopo gli applausi per l'anno scorso grazie alla corte del presidente mi ha convinto e adesso vedremo di toglierci tante soddisfazioni come mai è durata così breve così poco la sua parentesi nella roba? nell'Everton c'erano visioni differenti diciamo però problemi con il presidente? no no ci siamo lasciati consensualmente senza litigi senza ma dopo pochissimo però dopo tre quattro giornate eh sì perché comunque diciamo l'ambiente non era residente di Rardiani eh sì ah quindi che non vale? no non vale non vale non vogliamo accusare nessuno quindi il primo acquisto l'abbiamo annunciato già si sapeva da tempo eh Manzi però c'era invece più indecisione Videonona già sapeva qualcosa si torna d'antino sapeva qualcosa il secondo acquisto non è questo che d'altro io vorrei riferire dal nostro mago del mercato oggi diventa speciale queste persone oggi ce l'ha da giocare ma ci dicono che domani giocalo oggi no giocherà forse l'ultima l'addio lo darà domani alla sua ex squadra quindi stessa casacca di Manzi anche lui va via dalla corte di Luceno possiamo levare la casacca grazie 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 l'ha rancato anche lui rubato al presidente Luceno ce l'avete forse con questo Luceno? troppe figlie stanno arrivando da di qualche storia voglio ripetere una cosa che erano mie figlie e Luceno l'ha rubato noi che facciamo con la maglietta dell'Everton? eh attenzione la maglietta dell'Everton da dove si intende? non tra i piedi su sarà una risposta che forse domani dal presidente Luceno sicuramente vedrà noi acquisti domani noi acquisti bugione eccetera capano proprio di capano voglio parlare ormai l'addio è definitivo domani giocherà coletto non sarebbe venire un amico di capano che lo conosce bene non so ci sono state alcune comprensioni tra lui e mister Lino quindi ha deciso di lasciare questa maglia così con rabbia a volte un addio è solo un ciao e in questo caso ci dispiace buona fortuna a Capano per questa nuova avventura a Dambo e Capano per questa nuova avventura il terzo acquisto lo vogliamo svelare se c'è ci sarà un Defeo in più che tornerà un Defeo in più questo è il nuovo vago del mercato adesso è proposto anche come mortine e poi la vicenda Nappo non si è ancora chiarita la vicenda Nappo non c'è Giorgio Riccio non possiamo chiamarlo in causa Nappo che si farà? Nappo è vicino all'alpelle basse ah addirittura all'alpelle basse l'alpelle basse le gassini a lui degli screcci ma in questo momento è fuori rosa? si quindi non giocherà questo è sicuro non giocherà nel prossimo anno il 99% non sarà dei nostri lui lo sa non abbiamo chiarito perché non abbiamo chiesto esplicemente delle recitazioni sulla vicenda io non so l'alpelle basse non ha detto nemmeno la parola confetto questa aspetta non vorrei io stavo voglio esprimermi un'altra maglia di sicurezza per questa vicenda non è ancora sicuro non c'è non c'è la partita definitiva diciamo che faccia la maglia faccia la faccia la la tipico calciatore che non vuole far diciamo così per stasera chiudiamo però invito la Roma quasi al completo domani per dare l'annuncio ufficiale perché ci sarà l'ultima partita forse di quindi ci vediamo domani e chiudiamo questo sorrottino c'è anche con Ruggero una maglia una maglia qui ecco uno che ci stare sopra uno che ci stare sopra uno che ci stare sopra